Passiamo alla seconda parte, chiamo sul palco Nicola Porro che condurrà le interviste della mattina e il primo intervistato relatore che è Lopoldo Cavalli, fondatore azionista di Visionaire. Bene, buongiorno, come andiamo? Allora Visionaire, un primo dettaglio, qual è lo spaccato del fatturato, quanto in Italia quanto all'estero? Buongiorno a tutti, Visionaire è un'azienda, è un progetto che nasce per il mercato estero, in particolare 12 anni fa quando la mia azienda è un'azienda, io sono la terza generazione, quindi è un'azienda che parte nel 1958 con una vocazione assolutamente industriale perché la IPE faceva i sedili delle automobili Lancia, Fulvio e Flaminia, quindi con l'avvento della terza generazione mia e di mia sorella che è qui in sala, l'azienda si è trasformata in maniera importante e abbiamo deciso di percorrere, diciamo di competere nel segmento del lusso, che non è neanche il premium, proprio il super lusso. Non è neanche quel 3% di cui parlavamo? Assolutamente, le stime parlano di un mercato lusso mondo che è appena un billion, quindi... Su 370 che abbiamo visto? Su 360 e su mi pare 4-5 billion che sono rappresentati dal settore premium, quindi è una sfida molto difficile, sono poche le aziende che hanno oggi una capacità di competere nel mercato internazionale in questo segmento, è particolarmente complicato dal fatto che l'offerta deve essere globale, noi operiamo diciamo un po' in tutti i comparti merceologici, quindi offriamo il prodotto per la camera da letto, per il pranzo, per il living, le cucine, i bagni, l'outdoor, un catalogo prodotti di oltre 3.000 referenze e soprattutto una focalizzazione sulla customizzazione, sul progetto speciale, diciamo così, per oltre il 40% del fatturato e quindi è... Quindi 40% customizzato, però all'estero mi sembra di capire una grandissima percentuale. Sì, l'estero rappresenta per noi il 90%. C'è una tipologia del vostro cliente estero? Cosa cerca il cliente internazionale? Ma direi che la tipologia... ogni azienda ha la propria immagine, cerca diciamo una particolare tipologia di cliente. Il nostro cliente è un cliente che si evolve molto nel corso degli anni, noi ci siamo rivolti da subito ai mercati cinesi, ai mercati arabi e ai mercati russi, che sono i mercati che hanno trainato un po' le importazioni del lusso nel mondo negli ultimi dieci anni. All'interno di questi mercati il cliente tipo era certamente un cliente che per quanto riguarda la Russia e la Cina economie relativamente recenti e quindi un cliente che aveva anche il desiderio di raccontare al mondo che lui rappresentava un caso di successo, perché sono economie che si sono aperte relativamente in tempi recenti e che hanno lasciato correre la ricchezza, diciamo così, da dieci, dodici anni a questa parte. Io mi ricordo che il primo salone del mobile in Russia l'abbiamo fatto nel 95, nel 96 mi pare, quindi ed era proprio... vedevi proprio i clienti russi che con faccia meravigliata si approcciavano al prodotto italiano, quindi sono mercati molto recenti. In linea di massima sono clienti che ricercano un prodotto complesso, un prodotto che esprima il lusso e la ricchezza dei dettagli, materiali pregiati, il design, la parte, l'eleganza e quindi è soprattutto un servizio molto difficile da rendere, perché la cosa probabilmente più difficile è quello di mantenere le promesse a questi clienti. Apprezzano il Made in Italy o riescono anche ad andare oltre e guardare proprio la qualità del prodotto nel dettaglio? Sono clienti che soprattutto nella loro evoluzione hanno poi... Il Made in Italy aiuta? Sì, 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 ma basta, no? Il Made in Italy non è una, diciamo così, è ancora oggi un plus, quando sei italiano e porti un'azienda italiano nel mondo, comunque viene riconosciuto come un sistema paese che sa offrire il bello e il fatto bene, perché noi uniamo, diciamo, una capacità di creare ad una buonissima capacità di produrre, quindi l'unione tra bravissimi artigiani e bravissimi designer ha creato un po' il sistema del Made in Italy. Da un anno c'è un amministratore delegato e siete partecipati a un fondo, così, no? Come è stato l'inserimento di un amministratore delegato in un'azienda familiare che poi nasce 60 anni fa, come dicevi prima? Sì, nel 2009 ho cominciato questo processo cercando di rispondere a un'esigenza di buyout che era diventata necessaria nella nostra azienda e quindi ho avuto una diretta esperienza nel ricercare un partner finanziario che sostenesse il progetto, diciamo, della terza generazione e che riuscisse a affiancarsi e ad affiancare l'azienda a quelle competenze, ad inserire in azienda quelle competenze che in azienda mancavano. In particolare la managerializzazione è stato detto ampiamente, la nostra è un'azienda che è sempre cresciuta in maniera molto sana e quindi creando molta cassa e quindi non eravamo alla ricerca di soldi da mettere nel capitale, eravamo alla ricerca di un partner che potesse, diciamo così, inserire una cultura manageriale, aziendale nella nostra struttura familiare. Queste sono le cose che, devo dire, sulla carta uno dice mettete un manager nelle aziende familiari perché così migliorano le situazioni, però poi dopo ci sono degli attriti di cui non si parla spesso. Sì, è un percorso abbastanza lento. Noi siamo arrivati ad avere oggi sette dirigenti, ognuno nelle sue, nelle varie funzioni e ho completato anno scorso questo processo inserendo, diciamo, un mio alter ego. Quindi oggi sono azionista della società, non sono più operativo e mi sono ricercato un amministratore delegato che avesse delle competenze che io non ho, perché quello che so l'ho imparato in azienda, l'ho imparato da mio padre, mio padre e da suo padre e quindi il mio percorso formativo finisce lì. Invece il brand dell'azienda meritava, diciamo così, delle competenze che andassero oltre la mia esperienza e quindi questo è il motivo che mi ha portato a cercare un amministratore delegato nel mercato e l'ho trovato e sono molto contento della scelta che ho fatto e continuo a dare una mano per quello che posso, ma evidentemente in azienda si inseriscono adesso dei cambiamenti che vanno al di là della piccola rivoluzione che ho portato io e quindi questo è assolutamente necessario, credo, se si vuole che l'azienda cresca, cercare di andare oltre quelle che sono le proprie competenze, perché molto spesso si è anche un po' anche il limite, noi stessi siamo a volte il limite della crescita dell'azienda per delle nostre convinzioni, per delle nostre capacità, per la nostra volontà di essere su tutti i palloni, per dei limiti proprio temporali, fisici, non si può essere ovunque, non si può sapere fare tutto, quindi credo che il processo di entrata dei fondi nella nostra azienda abbia portato dei miglioramenti concreti, soprattutto nella mentalità con cui l'azienda affronta il mercato e nella scientificità e nell'analisi anche dei punti di forza di debolezza. Quando un'azienda è partecipata da fondi, il fondo entra e sicuramente esce dopo 3, 4, 5 anni, questo porta ad una continua messa, diciamo staffetta di fondi che porta l'azienda adesso sul mercato in maniera regolare. Questo è molto positivo per l'azienda perché ogni 3, 4, 5 anni è come se tu facessi un check totale, cioè vengono fatte le famose due diligence, queste due diligence mettono in luce tutte le criticità dell'azienda, sono delle analisi che servono anche all'imprenditore, servono all'azienda per cercare di colmare queste criticità perché evidentemente l'investitore a molta teme le criticità, le vuole conoscere, le vuole affrontare, le vuole gestire, le vuole risolvere e diciamo che un buon partner è colui che ti dà una mano proprio a risolvere le criticità che hai. Credo anche che sia fondamentale per una buona riuscita delle relazioni tra le aziende e i fondi, almeno noi abbiamo avuto due casi, noi abbiamo già fatto due giri di fondi, sicuramente non saranno gli ultimi, gli unici, è fondamentale esprimere l'azienda per quello che è ed esprimere il progetto di crescita per quello che realmente l'azienda vuole fare e può sostenere. Quindi se c'è una, diciamo così, buona onestà nel rappresentare l'azienda all'interno di un processo di vendite, c'è una onestà intellettuale nel sostenere un piano di business, un piano di crescita che effettivamente è possibile fare, che si vuole fare, normalmente i rapporti sono buoni e questo è molto importante. E l'uscita, insomma, vi siete fatti già due giri, corretto, la terza uscita sarà la borsa, la way out per il fondo, per voi, avete qualche idea? Non credo, Vision era un'azienda che ha un buon... Ora con questi peer, le aziende di dimensioni come la vostra, c'è una specie di enorme, qualcuno definisce addirittura bolla, di attenzione verso aziende... Certamente non manca la liquidità oggi da investire sulle aziende, però ritengo che aziende della nostra dimensione, noi facciamo quest'anno, stiamo cercando di arrivare a 50 milioni, abbiamo un buon EBITDA, oltre il 20%, ma siamo ancora tutto sommato piccoli per la borsa, quindi ritengo che ancora un giro o due di fondi possano preparare, allenare meglio l'azienda per affrontare poi il mercato, il mercato, diciamo, della borsa. Altre due domande, diciamo, un po' più di... meno finanziarie. Cosa vuol dire però non avere una fabbrica nel controllo del primo, diciamo, dell'eccellenza di quel piccolo mercato che vale un bilion rispetto a tutto il mercato? Cioè, la soffre ogni tanto? No, assolutamente. Non avere una fabbrica è una condizione necessaria per chi vuole esprimere una collezione che è composta di prodotti fatti di materiali, di mix di materiali che provengono da piattaforme produttive diverse. Non può esistere una fabbrica all'interno della quale si produce tutta la nostra offerta. Mescoliamo piattaforme produttive che lavorano l'acciaio, il marmo, la ceramica, le tappezzerie, la pelle, il tessuto. Non si può far tutto. Sicuramente il modello che io ho impostato in azienda è un modello che ho mutuato dalla moda. Noi nasciamo, dicevo, come azienda industriale e oggi non abbiamo la fabbrica. In realtà questo per noi è un grosso vantaggio da un punto di vista creativo, cioè non abbiamo limiti. Quando hai una fabbrica e devi fare lavorare le tue macchine, la tua preoccupazione principale è la buona redditività del tuo investimento, diciamo, tangibile, non materiale. Il fatto di far lavorare i tuoi dipendenti e quant'altro. Quindi da un punto di vista creativo rimani sufficientemente legato alla tua specificità produttiva. Noi abbiamo la fortuna di essere in Italia e di poter fare un networking tra artigiani eccellenti, ognuno dei quali ci può dare il meglio, diciamo così, della espressione nei vari settori merceologici, nella lavorazione dei vari materiali. Quindi noi trattiamo il vetro a Venezia, trattiamo l'acciaio in Brianza, trattiamo la pelle in Toscana, trattiamo il legno nelle Marche. Quindi all'interno andiamo ad attingere nei distretti artigianali di eccellenza e cerchiamo di creare delle relazioni forti, che a volte significano anche poter in qualche modo garantire a delle piccole realtà artigiane di avere un mercato, perché oggi è molto complicato per loro accedere al mercato dei capitali, è molto complicato poter fare investimenti per essere competitivi da un punto di vista produttivo. Noi garantiamo loro, attraverso anche lettere di veri e propri patronaggi fatte alle banche e quant'altro, un sistema di fornitura. Quanti fornitori avete? Noi abbiamo 67 piattaforme produttive attualmente in utilizzo. La difficoltà ovviamente è una difficoltà logistica, una difficoltà del controllo della qualità, è una difficoltà della certificazione del prodotto. Noi tracciamo, abbiamo negli anni, diciamo così, creato un metodo che ritengo efficace ed efficiente, anche perché siamo un'azienda molto veloce nelle consegne, pur facendo un prodotto customizzato e quindi questa è la cosa che forse è quello che piace ancora di più al mercato, cioè il fatto che in 6-8 settimane noi riusciamo a comporre un mix di prodotto che a volte sono 500 items, 600 items dal piccolo portacenera di cristallo fino alla cucina. Quindi non è banale far lavorare 67 piattaforme all'unisono cercando di lavorare per commessa e quindi con dei fermi macchina continui, cercando di gestire le produzioni di ogni artigiano day by day secondo un programma che deve essere in relazione al progetto delle consegne settimana per settimana. E come porta all'ultima domanda, cioè il giusto rapporto che deve esserci tra il retail e il contract o anche come abbiamo sentito ora il soft contract di cui parlava prima nelle relazioni e soprattutto le marginalità si cambiano molto evidentemente. Nel nostro caso il contract che affronta Visionaire è un contract totalmente proprietario, nel senso che il contract che noi esprimiamo è un contract dove il cliente si affida a noi come unico interlocutore per l'arredamento di una grande villa o di un grande appartamento. Noi non partecipiamo mai alle gare perché non siamo un'azienda competitiva, non abbiamo la leva del prezzo diciamo non è una leva che possiamo usare, quindi non partecipiamo alle gare del contract che alberghi. Noi possiamo offrire un servizio che parte dalla consulenza, dalla progettazione, dalla renderizzazione, siamo piuttosto efficaci, piuttosto preparati su questa divisione perché è lì che evidentemente si vince la sfida con il cliente che magari ti affida un appalto di milioni per casa sua. Noi abbiamo lavorato su delle case private che facevano la più grande 27 mila metri, due genitori, quattro figli, nove ville, una per ogni figlio, una per i genitori e tre per gli ospiti, maschi, femmine eccetera. Quindi evidentemente lavorare su un impianto di questo tipo offrendo sia il sistema del fix furniture, quindi pavimenti, decorazioni verticali, soffitti, che tutta la parte di arredo fino all'illuminazione, fino alle opere d'arte, ovviamente customizzate, personalizzate e il tutto in un range di tempo limitatissimo è estremamente complicato. Ti mancava qualcosa in questi conti, avreste avuto un pezzo di azienda in più, un pezzo di fornitura in più, o c'eravate tutto? No, questa è proprio la ricchezza, la preziosità del nostro modello è proprio questo, che tu puoi attingere diciamo a qualsiasi tipo di buona capacità produttiva italiana, l'importante è che sia un prodotto italiano perché evidentemente questo è quello che il mercato estero ti richiede, anche attraverso delle vere e proprie certificati di dichiarazione di origine. Quindi il retail non esiste sostanzialmente, il singolo è quanto vale? Le occasioni di contract sono stimolate dalla presenza sul mercato del nostro retail, noi abbiamo una trentina di negozi monomarca, prevalentemente un terzo, più di un terzo sono in Cina e poi in Russia, negli Emirati, in Arabia Saudita, in Italia e in Europa, comunque il nostro negozio che performa meglio è in Inghilterra, nei magazzini Eros e quindi la difficoltà sta proprio nel creare una... Cioè Vanni sta dicendo che dal negozio dei magazzini Eros, dove io vado, vedo due pezzi che mi interessano, lei lì, quello è un veicolo poi per fare il contract? Questo è un veicolo, sì, perché la presenza capillare sul mercato attraverso una rete di negozi di proprietà ti aiuta a trasferire il messaggio in maniera chiara, il messaggio e l'identità della tua azienda e stimola delle occasioni di contract che significano per noi l'occasione di non essere solo utili al cliente per l'acquisto del prodotto A o del prodotto B all'interno del negozio, questo è quello che chiamiamo le vendite retail, che comunque per noi rappresentano ancora il 60-65% del fatturato e stimolano però occasioni di entrare in maniera più massiccia e quasi totalizzante nel progetto di un bel appartamento, di una bella villa, di un albergo, di un ristorante, di un club, perché non è che poi facciamo solo situazioni residenziali private, ecco facciamo anche situazioni pubbliche. Perfetto, grazie. Grazie a te.